E' trascorso un anno da quando Pistoia e una parte della Toscana furono travolte dalla tempesta di vento che si abbatté con inaudita violenza nella notte e nelle prime ore del mattino del 5 marzo del 2015. Venti di grecale soffiarono con raffiche fino a 130-140 km orari, con picchi fino a 160 nelle vallate e a 180 km orari sull'appennino tosco-emiliano. Una bufera di vento che fu equiparata ad un uragano di prima categoria. I territori della provincia pistoiese subirono gravissimi danni a strutture e infrastrutture. Sulla piana, in Val di Nievole, in montagna, dappertutto uno scenario apocalittico. Alberi abbattuti, case scoperchiate, impianti sportivi danneggiati. Per fortuna, al di là dei danni materiali, la furia del vento risparmiò le persone. Nessun ferito fu registrato in quella tragica nottata. A distanza di un anno, numerose sono state le iniziative per cercare di fronteggiare questo tipo di emergenze. Presso l'auditorium della BCC di Vignole, montagna pistoese a Quarrata, lo scorso venerdì 4 marzo, si è tenuto un incontro dal titolo Emergenza Vento, promosso dall'Associazione di Volontariato di Protezione Civile Emergence, con il patrocinio della Regione Toscana, nel quale si è discusso su come affrontare l'emergenza vento e su come pianificare e gestire un centro operativo comunale. Condividere le esperienze, lavorare insieme, unendo le competenze, sono state le necessità a cui dare priorità per non trovarsi impreparati nel fronteggiare eventi così particolari. Da quando ovviamente si è insediata la nuova giunta e io ho riassunto la delega proprio a questo settore, si è posto subito il tema di come anche qui intervenire per arginare il superamento delle province e quindi riorganizzare il sistema. Queste sono certamente zone molto sensibili, soprattutto sul piano dell'idraulica, ma sono anche zone che possono vantare una lunga tradizione di impegno con un lavoro prezioso svolto dai sindaci, dalle amministrazioni locali che a questo punto deve essere messo a valore insieme al grande apporto del mondo del volontariato che in Toscana rappresenta veramente una grande ricchezza e all'apporto anche delle forze dell'ordine, in primis i vigili del fuoco che sono per noi un punto di riferimento rinunciabile. Quindi un bel momento per fare il punto in una fase di grande trasformazione nella quale la regione toscana è chiamata ad assumere un ruolo sempre più diretto, sempre più gestionale e quindi sempre più vicino al territorio e ai cittadini. La nostra associazione è un'associazione che è nata all'interno, in seguito a un master universitario di protezione civile all'Università di Firenze che ha visto la partecipazione di una serie di figure professionali molto diverse, del pubblico dipendente, del libro professionista e anche tante figure professionali, il geologo, l'ingegnere e il medico. Questa eterogeneità di questo piccolo gruppo ha fatto sì che nascesse questa associazione per la promozione della figura del coordinatore di protezione civile e per la diffusione della cultura della protezione civile nei vari ambienti, una tematica trasversale un po' a tutte le professionalità. Sempre più le stagioni ormai non è un modo di dire, sono cambiate, siamo di fronte a delle situazioni particolarmente critiche e le amministrazioni comunali e la protezione civile devono essere in grado di dare risposta alla propria cittadinanza per queste emergenze. Quindi un momento importante per riflettere, un momento anche per capire quelle azioni che dobbiamo fare quando siamo in presenza di eventi.